Ciao amici, siamo in Simulator e vi diamo la presentazione del nuovo volante Trasmaster T500 moddato. Il volante è questo, abbiamo sopra un display con le varie funzioni, usiamo due trimmer, fa questa la parte sinistra, girandolo dalle varie possibilità di sapere quanta benzina si ha, quanti giri siamo e le varie posizioni. Naturalmente è tutto programmabile, dall'altra parte invece facciamo l'altra parte del display e lì abbiamo i tempi. Anche questa parte è tutta programmabile, perciò ognuno di noi può mettere qualsiasi cosa voglia. Sotto invece abbiamo un televisorino, chiamiamolo così, a cristalli liquide, comandabile con i due bottoni laterali. E questo è già anche lui preimpostato ed ha varie schermate con varie disposizioni. Sopra centralmente abbiamo le marce, adesso andiamo a inserire la prima e si illuminerà, come ben vedete. E il software che stiamo utilizzando in questo momento naturalmente è Assetto Corsa. La cosa bella di questo volante è che ha lo sgancio rapido, che adesso vi andiamo a far vedere. Semplicemente si sgancia qua dietro, si tira e si toglie. Come ben vedete il volante ha uno spinotto, perciò non ci sono fili. Adesso si è spento, facciamo vedere bene com'è. Chi lo ha costruito ha fatto un vero capolavoro, devo essere sincero. Lo rinseriamo E vediamo che riparte in maniera completa. Veramente bello. Se lo volete ci potete anche contattare e ve lo faremo avere. Grazie a tutti, ciao.